Drenante dieta flessibile. Come funziona? Migliaia di nostri fan di persone che ci seguono stavano aspettando questo momento, il momento nel quale Mario e Valerio avrebbero spiegato ufficialmente come funziona il drenante con formulazione Drenanfast e ti spiegano tutti i segreti e le modalità di assunzione e le ricerche che ci stanno dietro. Quindi guarda attentamente questo video se vuoi capire esattamente come funziona il drenante con una Drenanfast di Dieta Flessibile Nutrition. Moltissime amiche che ci seguono, che hanno già ottenuto con noi strepitosi risultati, ci hanno sempre esposto un problema enorme che era quello della maledettissima ritenzione indica. Perdi 10 kg, perdi 2 kg, ne perdi 50. Quando arrivi a perdere il peso che vuoi perdere o se stai ancora in quella fase in cui stai perdendo a un ritmo giusto oppure pensi che ci sia qualcosina che puoi migliorare, spunta quella maledetta ritenzione indica che ti camuffa i risultati, che ti tiene ancora un po' più indietro, che ti fa sembrare gonfia, che puoi magari confondere con il grasso? Bene, moltissime amiche hanno proprio questo problema. Quindi per aiutarle abbiamo proprio formulato un prodotto che rispondesse alle esigenze delle decine di migliaia di persone che ogni giorno ci iscrivono e che abbiamo già aiutato a ottenere incredibili risultati di dimagrimento sul loro corpo. È un prodotto, il nostro drenante Data Plessibile Nutrition, con una formulazione esclusiva DrenanFast che abbiamo creato proprio per andare a stimolare quei processi che non sono proprio attivi se hai questi problemi e che quindi devi assolutamente conoscere se vuoi risolvere una volta per tutte e abbinare il dimagrimento efficace a uno sgonfiamento, a una definizione, a un miglioramento della qualità della tua pelle e del tuo dimagrimento. La prima cosa che voglio fare per spiegarti cosa fa il drenante è proprio leggerti la descrizione del processo, perché quello che abbiamo fatto non è altro che prendere la scienza della erboristica, quindi la scienza delle erbe naturali, nessuna sostanza strana utilizzata all'interno di questo prodotto, tutte quante erbe con produzione farmaceutica che hanno permesso la formulazione con i giusti dosaggi di un prodotto che fosse efficace ed estremamente sicuro, oltre alle varie certificazioni che puoi andare a vedere. Quindi è un integratore alimentare di estratti vegetali, contiene betulla, granigna e asparago, quindi la combinazione di queste tre che favoriscono le funzioni depurative dell'organismo ed insieme, quindi in sincronia a ortosifon, equiseto, ribesneo, uva ursina, mais e ibisco, quindi la combinazione di tutti questi elementi erboristici, favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinali, quindi uno sblocco del drenaggio dei liquidi corporei che vengono appunto espulsi in maniera più semplice, più facile, più veloce naturalmente dal tuo corpo senza alcun processo strano che ti sballa il metabolismo perché è tutto naturale, quindi non stai utilizzando un diuretico farmaceutico, qualcosa che ti fa male a lungo termine perché è comunque un farmaco, ma sostanze naturali non inficiano sul tuo organismo anche a lungo termine. Contiene inoltre ortica e finocchio che sono utili anch'essi per il drenaggio dei liquidi corporei. Vita rossa ad azione antiossidante ed utile in caso di gambe pesanti per la funzionalità del microcircolo ed angelica che favorisce la funzione digestiva e la regolare mobilità gastrointestinale e l'eliminazione del gas. Quindi se hai sofferto o stai soffrendo di pancia gonfia, di gas, di meteorismo, di fastidi intestinali, bene l'apporto di queste sostanze e nutrienti naturali che ti permette con questa sincronia di tutti questi elementi ti permette di drenare i liquidi di eccesso, di favorire la mobilità intestinale quindi di avere quell'effetto positivo che noi vogliamo sulla pancia pianta, sulla riduzione della ritenzione idrica e così via. Uno studio comparativo infatti fatto dall'American University of Beirut ha esaminato tutti gli studi che sono mai usciti in merito a prodotti in grado di stimolare in modo efficace i processi drenati. Quello che è emerso è che c'è una specifica combinazione, che guarda caso abbiamo proprio inserito all'interno del drenante di Tablesitia Nutrition, una specifica combinazione che attiva tutti i processi. Infatti qual è il problema del 90% dei prodotti che trovi sul mercato? Che attivano magari uno, un paio o un altro ancora di questi processi ma nessuno li attiva tutti e tre insieme. Sono tre specifici processi e attività che avvengono a livello cellulare e che prima di questo studio comparativo di questa università erano impossibili da attivare tutti e tre insieme. Perché? Perché nessuno era in grado, era stato in grado di incrociare tutte le formulazioni in grado di attivarli tutti. Ora, grazie alla formulazione all'interno del drenante di Tablesitia Nutrition è possibile attivarle tutte e tre insieme. Cosa facevano i prodotti disponibili sul mercato fino ad adesso? Magari erano in grado di farti andare più spesso in bagno, quindi farti fare più pipì, più frequentemente, però a che serve andare in bagno più spesso se poi il tuo corpo è in uno stato infiammatorio costante e riaccumula nuovamente i liquidi? Non serve assolutamente a nulla, te lo dico io. Infatti, come ti ha descritto Mario, il drenante di Tablesitia Nutrition è in grado, come primissimo step, di ridurre l'infiammazione. Quindi, una volta che è ridotto l'infiammazione, il corpo non ha più bisogno di trattenere liquidi per ridurre lo stato infiammatorio localizzato, ma può tranquillamente espellere i liquidi in eccesso e riciclare i liquidi in continuazione. Perché? Perché lo stato infiammatorio che era all'inizio è stato eliminato ed è già il principale problema. Un secondo problema è che, ovviamente, se già i drenanti falliscono il primo processo di non ridurre l'infiammazione, non c'è scambio tra i tessuti. Il drenante di Tablesitia Nutrition è in grado proprio di facilitare il ricircolo e lo scambio di acqua tra i tessuti e andare ad espellere i liquidi che sono ostinati, che sono proprio lì, bloccati tra le cellule. Questo secondo processo è fondamentale. Se a questi effetti abbiniamo le proprietà positive che il drenante di Tablesitia Nutrition è in grado di stimolare nei confronti della digestione e nel facilitare i processi digestivi, ovviamente sarai in grado di assorbire meglio i nutrienti e sfruttare al 100% le proprietà benefiche della tua dieta. Se infatti il tuo intestino non è pronto, non è predisposto, non è nelle condizioni migliori per assorbire i nutrienti, puoi fare la dieta migliore del mondo. Avrai sempre gonfiore e sempre una ritenzione idrica causata dall'infiammazione. Quindi torniamo al primo punto. Ma siamo sicuri che questo non faccia male, che sia tutto naturale e così via? Arriva spesso questa domanda, giustamente, perché moltissime persone sono scettiche sull'utilizzo di integratori alimentari, anche se oggi il mercato è estremamente florido, perché tutti utilizzano più o meno qualche integratore. Beh, in realtà, come puoi vedere direttamente nell'etichetta tu stessa o tu stesso, è Made in Italy, quindi noi siamo per l'Italia, noi siamo per la certificazione del nostro paese, la notifica al Ministero della Salute italiano, quindi no a prodotti stranieri di dubbia, diciamo provenienza. Doping free, quindi tutto estremamente naturale, non c'è alcuna sostanza dopante contenuta all'interno. Gluten free, quindi non c'è sostanza contenente glutine all'interno. Lactos free, quindi non c'è sostanza contenente lattosio all'interno, per cui persone intolleranti al glutino all'apposio possono assumerlo tranquillamente, senza alcun problema, ed è vegan, quindi è adatto a vegetariani e vegani, perché sono semplicemente estratti di erbe naturali, quindi è assolutamente un prodotto a base di estratti erboristici naturali. Ma come si utilizza questo prodotto per la migliore efficacia? Utilizzando il tappino dosatore che è contenuto al di sopra del prodotto, puoi utilizzare 15 ml per porzione di prodotto e lo metti in acqua. In maniera molto semplice potrai utilizzarlo bevendo di più durante la tua giornata. Quello che noi consigliamo è di prendere una bottiglia d'acqua da un litro, un litro e mezzo magari, e sorseggiarla durante la giornata con una porzione da 15 ml o anche di più fino ai 60 ml al giorno. Ovviamente 60 ml al giorno, qualora tu voglia un effetto maggiore per determinati giorni, per esempio vuoi mostrarti al meglio in spiaggia, vuoi sgonfiarti dopo che hai ritenzione idrica da un pasto, sgarro o qualche giornata no, quello che potrai fare sarà incrementare il dosaggio oppure assumere più razioni. Quindi se bevi tre litri d'acqua potrai fare magari il tuo primo litro e mezzo d'acqua con 15 ml e un altro litro e mezzo d'acqua con altri 15 ml di drenante e sorseggiarla quindi durante la giornata. In questo modo avrai un effetto circolatorio e drenante durante tutta la giornata e ti aiuterà a ottenere più risultato dal tuo regime nutrizionale che stai già seguendo. Quindi se uno dei problemi che ti assilla è proprio la ritenzione idrica, se la ritenzione idrica non ti consente di vederti al meglio anche se stai dimagrendo e stai seguendo un piano perfetto per il tuo obiettivo, se il tuo problema, se quello che ti assilla è vederti gonfia, vedere il classico bozzetto sull'addome, vedere la ritenzione idrica che ti fa avere sempre quei fianchi un po' burrosi e gonfi, non ti resta che cliccare il link che trovi sotto questo video e approfittare di un'offerta esclusiva che abbiamo riservato per te. Proprio perché come decine di migliaia di donne che abbiamo aiutato prima, sappiamo proprio quello che ti serve e sappiamo proprio cosa devi fare per raggiungere questo obiettivo in modo definitivo. Clicca il link sotto questo video, acchiappa adesso l'offerta che abbiamo riservato per te e ottieni risultati eccezionali sul tuo fisico da adesso. Adesso che hai scoperto tutti i segreti del drenante, drenanfasti, dieta, flessibile e nutrition, quello che puoi fare è ovviamente condividere questo con le tue anniche e i tuoi amici in modo da far capire anche a loro come è possibile attivare i tre processi di attivazione metabolica che ti permettono di ottenere più risultati e finalmente mostrare il fisico che vuoi realmente grazie a un aiuto estremamente naturale e prestato. Dopodiché clicca il tastino mi piace e seguici su YouTube, Instagram e Facebook di Dieta Flessibile Italia per ulteriori informazioni fondamentali sulla tua nutrizione e il tuo benessere. Da Mario e da Valerio ci vediamo al prossimo video.